E' l'incubo di tante persone, quello di avere in casa un quadro con un ritratto che si anima e segue con gli occhi chi lo osserva. Questo scherzorro si può costruire da soli con un vecchio telaio vittoriano e il software libero Arduino. Il progetto è di Sonic Robots che ha realizzato il video che mette davvero i brividi.